Sta diventando un caso nazionale la vicenda relativa all'arbitro orvietano Virginia Casalicchio che domenica scorsa ha diretto l'amichevole orvietano a Ponte Vecchio indossando degli short. Intanto il Villa Biagio vince il derby di Coppa a Trestina. Successo per la 49esima edizione del Gran Premio Mokajana di ciclismo, vinto dal siciliano Saporita, bilancio lusinghiero per l'organizzazione. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione sportiva da TRG. Mentre le squadre professionistiche Umbra si preparano in vista del debutto in campionato tra sabato e domenica prossimi, il calcio Umbra sale alla ribalta nazionale per la vicenda relativa a un arbitro donna. Si tratta della 27enne orvietana Virginia Casalicchio che domenica scorsa ha arbitrato l'amichevole tra la squadra di casa della sua città e la Ponte Vecchio. Particolare, inusuale però il fatto che complice il Gran Caldo si sia presentato in campo non in divisa ma con un top attillato e dei pantaloncini corti. Le foto e alcune immagini hanno ben presto fatto il giro dei social e da oggi la vicenda è diventata quasi un caso nazionale del quale il presidente regionale dell'AIA, Fiorucci, avrebbe fatto volentieri a meno. La versione ufficiale vuole che la Casalicchio si stesse allenando al Muzzi proprio domenica quando le due squadre sono arrivate così che anziché far arbitrare il preparatore l'orvietana le abbia chiesto un favore di poter dirigere la gara. Il problema però, dichiare in un comunicato il presidente dell'AIA regionale Luca Fiorucci, è che da regolamento un direttore di gare iscritta all'AIA non può arbitrare senza la nostra autorizzazione. Una volta ottenuta poi è obbligatorio scendere in campo in divisa. A fronte di quanto accaduto saremo costretti a fare una segnalazione alla procura arbitrale che prenderà le sue decisioni. Tornando al calcio giocato, sarà quella di domani una giornata importante per la Serie C perché ci sarà il Consiglio federale indetto in giornata, chiamato a diramare il restante calendario dopo che si conoscono, sono state rese note solo le prime tre giornate di campionato. Gubbio che giocherà a Vicenza, poi in casa col Sant'Arcangelo e quindi a Mestre. Inoltre ci sarà la decisione definitiva in merito al minacciato sciopero dei calciatori che farebbe slittare di sette giorni il via del torneo, anche se nelle ultime ore la protesta sembra rientrata. Ma ora parliamo anche di Serie D perché il campionato ancora dista dieci giorni, comincerà il 3 di settembre ma intanto si è già giocata la Coppa. Già il primo derby e già sugli scudi c'è il Villabiaggio di Massimo Cocciari che ha vinto a Trestina 2-0. Il servizio di Nicola Agostini dal sito Eccellenza Calcio. Buona la prima per il Villabiaggio che batte 2-0 il Trestina al Casini nel primo impegno ufficiale della stagione. Una gara condizionata dal rosso al fantasista Lacheb che ha lasciato il Trestina in dieci dal quattordicesimo e dall'ingresso nella ripresa del nuovo acquisto Rinaldi decisivo con un gol e un assist per il Villabiaggio. Si comincia in fretta e furia senza il minuto di raccoglimento per le vittime di Barcellona e il primo squillo lo suona Brunori al nono con una punizione che sorbolla la traversa. Senza Goretti squalificato e con Bevilacqua infortunato Cocciari schiera il suo Villabiaggio con cinque fuori quota titolari in un 4-3-1-2 che vede Vitali in porta. Lucaroni, Cangi, Scenerini e Trequattrini in difesa. Pettinelli, Ubali e Gramaccia in mediana con Montanucci sulla trequarte alle spalle dei due d'attacco formato da Brunori e Mirval. Brachida al canto suo deve rinunciare a Pezzati in difesa e punta su un 3-5-2 con così metti fra i pali. Marconi, Burini e Nonni nel reparto arretrato. Ascione, Vinagli, Morvidoni, Chiavazzo e Maggioli a centrocampo con la Cebbe e Ridolfi in avanti. I piani del tecnico toscano però saltano dopo 14 minuti quando l'arbitro Valentina Finzi di Foligno su segnalazione dell'assistente Benedetti estrae il rosso diretto all'indirizzo di La Cebbe dopo un contatto a palla lontana con Cenerini. Tra estina in 10 con Ridolfi unica punta. Il tiro difensivo bianconero tiene però bene concedendo al Villabiaggio nel primo tempo solo due occasioni. Al minuto 20 quando Mirval ruba palla a Chiavazzo Brunori per Pettinelli e ancora per Brunori esterno della rete. alla Mazzora quando Cangi pesca Brunori che controlla Burini nel tentativo di alleggerire l'indietro per poco non sorprende Cosimetti che si salva distinto. Nel finale Gramaccia avrebbe la palla buona per portare in vantaggio gli ospiti ma la sua conclusione viene sporcata in angolo. Nella ripresa Cocciari sfrutta subito la nuova regola dei cinque cambi con una doppia sostituzione a rientro dall'intervallo. Fuori Mirval, dentro Cardarelli fuori Montanucci, dentro Rinaldi e questo sarà un cambio determinante. Sette minuti entra anche Rondoni per Pettinelli cambiano gli interpreti, non il modulo l'uomo in meno e il Gran Caldo non aiutano il Trestina che pensa soprattutto a contenere il Villabiaggio preme sul gas al 63esimo, Cosimetti si fa trovare pronto sulla conclusione a botta sicura di Brunori al 65esimo poi gli ospiti passano in vantaggio azione sulla destra sull'asse Rinaldi-Rondoni con Gramaccia che da lì alla fine non può proprio sbagliare Villabiaggio sull'1-0 e curiosità e ancora Gramaccia a firmare il primo gol ufficiale dopo aver siglato la prima rete della stagione in amichevole Brachi pesca allora in panchina fuori Maggioli e Vinagli dentro Merlini e Salis e Bianconeri passano al 4-3-2 sulle ali dell'entusiasmo il Villabiaggio troverebbe anche il raddoppio con Brunori servito da Rinaldi ma c'è la bandierina dell'assistente Benedetti a vanificare tutto Valentina Finzi poi ristabilisce la parità numerica in campo e spellendo Rondoni al 74esimo per un presunto gioco falloso non basta però perché a mettere la parola fine sul primo derby della stagione ci pensa Rinaldi con questa punizione d'applausi 2-0 per il Villabiaggio e Cocciari al 91esimo esaurisce i 5 cambi inserendo Curti per Cenerini e anche la nuova regola è servita il Trestina già pensa al 3 settembre quando al Casini arriverà il Forlì nella prima di campionato per il Villabiaggio domenica prossima trasferta di Coppa Rieti Ed ora il ciclismo successo domenica per la 49esima edizione del Gran Premio Mocaiana svoltosi nell'ambito delle iniziative legate alla festa della popolosa frazione Ugubina e organizzata dalla Gubbio ciclismo Mocaiana insieme alla Proloquo a vincere il siciliano Saporita bilancio lusinghiero anche per l'organizzazione il servizio è andato allo junior Salvatore Saporita della scuola ciclismo Cene il Vulcano la 49esima edizione del Gran Premio Mocaiana Memorial Martino Procacci Trofeo Acqua e Sapone gara di 116 km organizzata come ogni anno a Mocaiana di Gubbio dalla Gubbio ciclismo Mocaiana del presidente Luigi Barbi e del team manager Stefano Marionni con la preziosa sinergia con la Proloquo di Mocaiana del presidente Pierpaolo Mariotti e del vicepresidente Gianni Fioroni erano 101 gli atleti al via in questa competizione ciclistica che ha aperto i festeggiamenti in onore della Madonna della Neve di Mocaiana subito protagonista il portacolori della scuola ciclismo Cene il Vulcano formazione bergamasco sicula dei presidenti Giuseppe Maffeis enunzio uccellatore che dopo la salita di Monte Lugiano riesce a portarsi all'inseguimento del fuggitivo Emanuele Paolini del team Alice Bike Elite Service quest'ultimo scivola nell'ultima curva posta prima dell'arrivo e così il siciliano Salvatore Saporita di Milazzo diretto da Marco Valoti va a conquistare la sua seconda vittoria stagionale alle sue spalle si piazza il campione umbro Bruno Aslani dell'Unione Ciclistica Foligno mentre sul terzo gradino del podio sale Lorenzo Barbieri del team Alice Bike Elite Service sempre folignate alla premiazione è intervenuta Marta figlia di Martino Procacci accanto agli organizzatori allo staff dirigenziale della Gubbio Ciclismo Mocaiana cui è intitolata la manifestazione successo tecnico e di pubblico che ha gremito il percorso a conferma della bontà dell'organizzazione da parte del sodalizio gubino che ormai rappresenta un punto di riferimento nel panorama sportivo regionale e non solo e un'ultima notizia che riguarda invece l'appuntamento podistico con la Cori Gubbio by Night organizzato ogni anno nell'ambito delle iniziative della festa della parrocchia di Sant'Agostina a Gubbio la concomitanza della gara sabato sera con la notte bianca dello sport ha suggerito di riviare questo appuntamento dunque sabato sera non si correrà per le vie del centro storico la Cori Gubbio by Night data l'oggettivo e impossibilità di far coesistere le due manifestazioni il tutto è rinviato a giovedì 31 agosto quando il programma della gara resterà lo stesso quindi partenza tra le 20 e 30 e le 21 da via Dante con alcuni giri intorno alle vie del centro storico e arrivo alla stessa via Dante poi con un ristoro finale per tutti i partecipanti questa è la notizia per chiudere l'edizione del TG Sport di questa serata che andrà in replica intorno alla mezzanotte ritroverete domani sul nostro sito trgmedia.it grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata con TRG grazie per la visione